La nazionale azzurra di volley femminile ha battuto ieri sera gli Stati Uniti con il punteggio di 3-0 nella prima partita della terza fase dei mondiali di volley che designerà le semifinaliste mondiali, i parziali 25-23, 25-22, 25-20. La gara era molto temuta soprattutto per l'aggressività degli avversari a stelle e strisce che sono dovute capitolare di fronte ad una squadra che ha dimostrato di essere all'altezza di raggiungere la finale ridata, prossimo e decisivo impegno venerdì contro la Russia, contro appunto le avversarie basterà vincere un set.